Luca ha una vita meravigliosa. La cosa che Luca non sa è che la sua vita è sicura e confortevole grazie a dei materiali importanti, i fluoropolimeri. I fluoropolimeri sono un elemento integrante del mondo moderno e vengono utilizzati in una serie di applicazioni critiche grazie alle loro proprietà uniche. Vediamo alcune delle applicazioni quotidiane dei fluoropolimeri. I fluoropolimeri possiedono eccellenti proprietà elettriche e sono usati in interruttori, fili e apparecchi elettrici per evitare cortocircuiti. I fluoropolimeri vengono rivestiti sulle pentole per le loro eccellenti proprietà antiaderenti e la loro stabilità alle temperature di cottura. La loro eccezionale resistenza termica, l'inerzia chimica e le proprietà superficiali le hanno resi il materiale preferito per gli articoli a contatto con gli alimenti. I fluoropolimeri allungano la vita delle applicazioni di uso quotidiano riducendo la manutenzione perché sono resistenti ai detergenti e ai sali. I fluoropolimeri sono utilizzati come membrane nei sistemi di filtrazione dell'acqua sia a casa che nelle strutture che forniscono acqua potabile. I componenti del riscaldamento elettrico a pavimento sono isolati dai fluoropolimeri perché possono resistere alle alte temperature quando il sistema in modalità di riscaldamento. Per Luca è arrivato il momento di prepararsi e uscire. Nelle auto elettriche i fluoropolimeri sono utilizzati per mantenere le batterie al litio sicure e durature. La mobilità elettrica è necessaria per raggiungere gli obiettivi ambientali. Sempre di più autobus e camion sono alimentati da celle a combustibile idrogeno di cui i fluoropolimeri sono parte integrante. Inoltre la produzione di idrogeno richiede i fluoropolimeri come membrane a scambio protonico. I fluoropolimeri sono utilizzati nei cuscinetti dei pilastri dei ponti per consentire alle parti in acciaio dei ponti di muoversi quando si espandono a causa delle variazioni di temperatura esterne. Grazie alle eccellenti proprietà di resistenza agli agenti atmosferici, i rivestimenti e le pellicole in fluoropolimeri vengono utilizzati in edifici di grande altezza, cupole e stadi, prolungandone la durata e riducendo così la manutenzione. Senza i fluoropolimeri i moderni dispositivi di comunicazione come telefoni cellulari, tablet, computer portatili, monitor e orologi intelligenti non soddisferebbero gli standard di prestazione richiesti. Inoltre i fluoropolimeri sono necessari per la produzione di microchip per dispositivi elettronici e le pellicole di fluoropolimeri sono utilizzate per l'isolamento dei pannelli di visualizzazione. I fluoropolimeri contribuiscono alla creazione di una tecnologia 5G veloce e affidabile per il trasferimento dati. I fluoropolimeri sono molto utilizzati in campo medico. Tutti i tipi di strumenti, macchine e tubi sono rivestiti di fluoropolimeri perché sono facili da pulire e prevengono le infezioni incrociate. Inoltre molti impianti come gli innesti e gli stent cardiovascolari sono realizzati in fluoropolimeri perché sono biocompatibili, inerti e sicuri. I mulini a vento per energia eolica su terraferma e offshore richiedono guarnizioni molto grandi realizzate in fluoropolimeri. Le pellicole di rilascio in fluoropolimero vengono utilizzate durante la produzione di pale di turbine di grandi dimensioni per evitare danni alle pale stesse. I fluoropolimeri sono essenziali per proteggere le fragili celle fotovoltaiche dei pannelli solari dalle condizioni climatiche avverse, garantendo una maggiore durata e migliori prestazioni. L'industria chimica lavora spesso con sostanze e condizioni di lavoro molto aggressive. Per prevenire corrosione e perdite, i fluoropolimeri vengono utilizzati come guarnizioni e rivestimenti per proteggere l'acciaio di pompe e tubi. La trasmissione di energia ad alta tensione richiede ugelli in fluoropolimeri per gli interruttori SF6 che collegano e interrompono i circuiti di corrente. I fluoropolimeri sono ampiamente utilizzati negli aerei. Centinaia di chilometri di fili e cavi necessari per i comandi e i segnali e per i sistemi di intrattenimento in volo sono isolati con i fluoropolimeri. Anche i motori e i sistemi di alimentazione trovano molte applicazioni con i fluoropolimeri, in quanto hanno eccellenti proprietà elettriche, sono resistenti al cherosene e ad altri fluidi e possono sopportare le alte temperature del motore. Le pellicole in fluoropolimero e le coperture in fibra di vetro rivestita si trovano in tutto il mondo negli aeroporti e negli stadi sportivi. Queste strutture sono leggere, durano molto a lungo e sono fondamentali per controllare la temperatura interna. I fluoropolimeri non solo permettono a Luca di vivere comodamente la sua vita quotidiana, ma creano anche un ambiente di vita sicuro dietro le quinte. Inoltre i fluoropolimeri svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento della società moderna, ci aiutano a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e rendono il pianeta un posto migliore in cui vivere.